Buon lavoro anche a voi. Guarda chi incombe là, eh? Nicolini. Eccolo qua. Capita anche questo a Natale. Dove sei? Dove sei? Che fine hai fatto? Lia, Fabio, buonasera, buon Natale. Siamo a Pioltello, nel multisala, al cinema, perché ovviamente nel giorno di Natale che cosa si fa? Siccome in Premier si gioca, ma in Italia ancora per quest'anno almeno non si gioca, la gente va al cinema giustamente, anche perché probabilmente ha My Sky e quindi non c'è nessun tipo di problema. Diciamo Pioltello in zona Milano, giusto per chi magari ci sta seguendo da Grigento e non conosce Pioltello, giusto? Sicuramente. Provincia di Milano. In provincia di Milano chi c'è? C'è Gianni, ha 12 anni, andiamo subito a sentire che film va a vedere, perché gliel'abbiamo chiesto prima, ma voi ovviamente non avete sentito. La banda dei Babbi Natali. Che è quello di Aldo Giovanni e Giacomo, giusto? Preferito al cine panettone? Sì. Poi abbiamo qua uno stuolo di belle ragazze che vi faremo immediatamente vedere. Volevo sapere da Gianni che ha 12 anni, per che squadra ti fa? Milan. Allora, da milanista mi devi dare un commento al passaggio di Leonardo dal Milan all'Inter, proprio la vigilia di Natale. È uno stronzo. Perfetto, Gianni, a posto così direi di passare oltre, buon Natale. E andiamo invece a sentire, parliamo di cinema, allora che è meglio? E andiamo a sentire... Elisa. Elisa? No, scusa.